La versione riprodotta, come ho detto, è una delle ultime versioni della 428 di prima serie, caratterizzata appunto dalla presenza di un lungo corpo centrale e due avancorpi di estremità che contenevano le apparecchiature. La macchina presenta la riproduzione sulle ruote della trasmissione a tamponi di tipo Fanelli che fu installata su queste macchine dopo la fine della seconda guerra mondiale.